100 alla maturità e alla sua undicesima edizione. Torna l'iniziativa della tecnica della scuola per valorizzare le eccellenze. Quest'anno peraltro alla maturità sono tornate le prove scritte, un esame dunque decisamente impegnativo anche sul fronte delle emozioni. In cosa consiste l'iniziativa? Gli alunni che avessero concluso il secondo ciclo scolastico riportando la votazione di 100 o 100 e lode che avessero voglia di dare visibilità a un ottimo risultato, potranno inviarci una propria foto che entrerà a pieno titolo nella galleria fotografica dei centisti della tecnica della scuola sia sul nostro portale tecnica della scuola.it che sui nostri profili social facebook instagram e twitter. L'iniziativa si concluderà il 20 luglio 2022 per le modalità di partecipazione vai sulla home del portale tecnica della scuola.it e clicca sul banner 100 alla maturità. Grazie a tutti! Grazie a tutti!